a un po' un po' come le mosine come i poveri non abbiamo di che mangiare per favore ci dia qualcosa ma tu guarda ma tu guarda i vostri microbi a casa vostra, negli vostri scatoloni io dovrei essere buono con voi voi che non avete mai lavorato non avete mai fatto niente nella vita uno, statemi ascoltare è inutile che sciupo parole per gente come voi ma un secondo, visto che la vigilia di Natale come dite voi parla vi sembra giusto che delle persone guadagnino per comprarsi le sigarette sottomarche per pagare meno soldi per farsi telefonare dal telefonino dagli altri per farsi telefonare dal telefonino dagli altri per non spendere soldi comprarselo comunque comprarsi la giacca e i vestiti per poi dare dei soldi a dei pezzenti come voi c'è mia qualcosa la prego almeno la vincita di Natale neanche una lira ma avete scombinato anche il colo della camicia la prego la prego la prego via chi fezze feccia della società feccia 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 grazie ciao Grazie a tutti.